Lo sportello del cittadino è by night a Taranto, San Vito, rotatoria del Chiapparo, Viale Ionio, ad angolo quasi nei pressi di Via delle Tre Fontane, Lama. Come vedete, anzi come non vedete, ma il faretto ci illumina, è proprio il caso di dire, il buio è pesto. Irene Lamanna, presidente dell'associazione Taranto Turismo, uno snodo nevralgico, un punto fondamentale, anche pericoloso per quanto riguarda la viabilità stradale, eppure paradossalmente non illuminato. Quindi il buio regna sovrano su Taranto e San Vito, sì, questo è un importante snodo del nostro territorio che è chiaramente buio, non illuminato, ma da diversi mesi, oltre ad essere, non lo possiamo vedere perché ovviamente è molto buio, trascurato anche nella vegetazione, è da fare invidia al Ghana per questa vegetazione. O al Burundi. O al Burundi anche. Però quelli sono paesi almeno in via di sviluppo, qua a sviluppo non ce n'è. No, però possiamo cercare di svilupparci noi verso altri paesi. Quindi è molto problematico questo svincolo, tutta via Leionio, ma in particolare questo punto, è assolutamente pericoloso per la viabilità delle auto, ovviamente, perché non c'è il cammino pedonale, ma anche delle biciclette, perché c'è la corsia per le bici e ovviamente non estendo... Pista ciclabile. Pista ciclabile, la cosiddetta... Chiamiamola. Chiamiamola, non volevo pronunciare questo bellissimo nome. È un'offesa alle vere piste ciclabili. E quindi, ovviamente, è assolutamente buia, un gravissimo problema per chi purtroppo si muove con le biciclette. Per fortuna, dobbiamo ancora dire grazie alla Marina Militare che ci degna di un po' di illuminazione a tratti alterni sulla via Leionio grazie alle proprie sistemazioni logistiche alla base navale Chiapparo. Quindi, ancora una volta, la Marina Militare a Taranto sopperisce a quello che invece dovrebbe fare il cuore. Al vuoto istituzionale. Esattamente. Come vedete, si parla tanto di sicurezza stradale, di prevenzioni degli incidenti ed è giusto che sia così però poi assistiamo ad una situazione incancrenita da anni e da anni. Poi accadono gli incidenti, poi purtroppo ci scappa il morto e poi si fa come i coccodrilli che piangono il famoso pianto dei coccodrilli o anche il pianto degli amministratori comunali di Taranto.